Tu mi ricordi, tu stai ancora? Loro dita si sposta lungo la cava districa, una stretta fessura attraverso la loccia calcarea che corre fino a verso il mare, da lì verso Vittoria, centro d'eccellenza della produzione del vino in Sicilia, per incontrare anche una delle nuove stelle del già luminoso panorama del jazz italiano, per cui allacciate le vostre cinture di sicurezza perché voi venite con noi. Loro dita si sposta lungo la cava, da lì verso Vittoria, centro d'eccellenza della produzione di sicurezza, centro d'eccellenza della produzione di sicurezza, centro d'eccellenza della produzione Benvenuti nella città delle caverne, o meglio Cava Ispica, la meno conosciuta ma sicuramente una delle più suggestive ed interessanti cave della Sicilia orientale. Una vallata incisa all'interno delle formazioni dei Monti Blei, tra Modica e appunto Ispica. I primi abitanti della vallata furono i sicoli tra il VII e il VI secolo a.C. abitavano in capanne e utilizzavano delle grotticelle dette a forno per la sepoltura dei defunti. Alcuni rinvenimenti risalenti all'età classica ed ellenistica effettuati lungo la cava testimoniano l'esistenza di piccole borcate, databili tra il IV e III secolo a.C. In piena età bizantina poi la cava fu utilizzata dai cristiani come rifugio per sottrarsi alle persecuzioni dei romani. I nuovi abitanti riadattarono gli ambienti già esistenti decorandoli con immagini sacre e trasformandoli in chiesette rupestre. Eccoci nella suggestiva Larberia. Questo fu un cimitero cristiano ed è considerato una delle più estese necropoli della Sicilia iniziale. 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 Iniziale.